Oggi è un giorno speciale, saleremo a bordo di un'ambulanza di Campania Emergenza, un'ambulanza privata che garantisce la salute dei cittadini. Andiamo ad intervistare operatori sanitari, dirigenti. Gli operatori sanitari ogni giorno garantiscono la salute dei cittadini, possiamo definirli eroi della salute, anceli che ci salvano la vita. Andiamo a vedere le immagini e a sentire le interviste dei protagonisti. Campania Emergenza, servizio sanitario sul territorio. Ne parliamo con Leonardo Mirti, direttore generale della Campania Emergenza. Qual è la storia di Campania Emergenza? Di quanti veicoli sanitari disponete? La Campania Emergenza nasce nel 1994 a Mondragone. Attualmente abbiamo circa 30 mezzi suddivisi in ambulanze, automediche per il trasporto del sangue e del plasma, veicoli per il trasporto di disabili e di dializzati. Siamo presenti presso l'ospedale Pinita Grande Hospital, svolgiamo tutta la logistica sanitaria. Siamo presenti a Napoli, nell'ospedale primo e secondo policlinico, nell'ospedale Monaldi, nell'ospedale Cotugno, nell'ospedale CTO, nell'ospedale di Capri e garantiamo assistenza sanitaria a tutto tondo. Quali sono i servizi che offrite e qual è la vostra fascia di prezzi? Buongiorno, io sono Diego Cipolletta, responsabile amministrativo della Campania Emergenza. Noi ci occupiamo prettamente di logistica sanitaria, forniamo tutta quella che è la movimentazione sia dei pazienti che per quanto riguarda tutto il materiale in ambito sanitario di campioni biologici e plasma. I servizi che offriamo prettamente sono quelli del trasporto dei pazienti a mezzo ambulanza, forniamo il servizio di trasporto campioni biologici e plasma, il servizio di trasporto pazienti dializzati e il servizio di trasporto persone disabili. Per quanto riguarda invece le attività che svolgiamo sul territorio, noi siamo abilitati nell'essere operatori sanitari durante le manifestazioni che si svolgono, durante le attività cittadine. Per l'appunto saremo impegnati dal 10 al 20 agosto a garantire il safety durante l'estate mondragonese. Con il progetto è stata sicura, attraverso il progetto safety di noi che siamo un'azienda certificata e strutturata sul territorio riusciremo a garantire quella che è la sicurezza dei cittadini mondragonesi durante il periodo estivo che è un periodo che porta molto turismo, c'è un afflusso di persone abbastanza alto. Per quanto riguarda la fascia di prezzi, parlando prettamente del mero trasporto in ambulanza, restando sul territorio, ovvero noi serviamo spesso i pazienti del presidio ospedaliero di Pineta Grande, si conta che un trasporto a Castelvolturno per Mondragone costi all'incirca dai 50 ai 60 euro. Fermo restando che poi bisogna comunque andare a vedere quella che è la caratteristica del paziente che deve essere trasportato, le tipologie di presidi che vanno a bordo, lo staff che deve accompagnare il paziente durante questo trasporto. Come si mantiene la calma durante un intervento sanitario? Qual è il segreto per fare il mestiere dell'operatore sanitario? Allora, da premettere che noi attualmente sul territorio sia napoletano che casertano non svolgiamo servizio di 118, ma svolgiamo servizio di trasporto secondario, quindi con ambulanze di rianimazione e quindi svolgiamo il trasporto protetto del paziente, talvolta lo stesso è intubato o in particolari condizioni. Ebbene, la calma si mantiene solo formando il proprio personale, quindi chi è a bordo dell'ambulanza deve essere un operatore sanitario, sia autista che soccorritore o infermiere o medico devono essere formati a svolgere tale tipo di attività. In relazione all'autista soccorritore, esso deve essere in possesso di una patente KB una certificazione che è relativa alla guida sicura, ai primi corsi di primo soccorso, quindi BLS e BLSD il corso di pre-trauma hospital, quindi PHCT. Quindi la calma, la sicurezza che l'operatore dimostra è perché esso è formato. Un operatore non formato è ovvio che ti possa andare in panico e è ovvio che possa sbagliare qualche manovra, fosse solo nella mera immobilizzazione del paziente durante un trauma. Siamo a bordo del veicolo sanitario, ci puoi indicare i principali strumenti, i principali macchinari? Allora, l'attività del trasporto degli infermi in ambulanza c'è da dire che necessita di una licenza di esercizio. La licenza di esercizio viene rilasciata dal comune di appartenenza. Tutti i mezzi della campana emergenza posseggono tutti una licenza di esercizio all'attività del trasporto degli infermi rilasciata dal comune di Mondracone. Questa in particolare è un'ambulanza di rianimazione, quindi con particolari attrezzatori di bordo. Vi è un monitor multiparametrico dove vengono rilevati tutti i parametri vitali, quindi la saturimetria, la pressione e l'ossigenazione del sangue. Successivamente abbiamo un ventilatore polmonare, il quale riesce a mantenere in vita i pazienti durante il trasporto. Poi abbiamo un monitor defibrillatore della Medtronic denominato LifeBak, il quale ha anche un pacemaker esterno da posizionare al paziente durante il trasporto. Oltre a tutte le attrezzature atte ad immobilizzare eventuali traumi. Quindi gli immobilizzatori, i collari cervicali, lo zaino di rianimazione con lo zaino di soccorso, tutti i presidi relativi alla 8108 sono disposti in ambulanza, quindi guanti, camici di protezione, mascherine e quant'altro. Questo tipo di barella è atta ad ospitare anche i pazienti obesi. Quindi con questa barella noi riusciamo a trasportare un paziente che va fino ai 280 kg. In ogni ambulanza vi sono gli ancoraggi cosiddetti 10G, cioè anche le barelle devono essere a norma e quindi devono possedere il cosiddetto gancio 10G, che è posto ai piedi della barella. Naturalmente un'ambulanza senza un cancio 10G non è considerata un'ambulanza a norma.